Completato l'iter per il piano di zona S4 dell'ambito territoriale che vede Ponte Cagnano-Faiano come comune capofila e in cui rientra anche Battipaia, adesso tocca alla Regione approvare la procedura elaborata dagli amministratori dei 10 comuni afferenti. A me è dispiaciuto aver sentito anche alcune cose non corrette su questi argomenti. Ad esempio con una parte che riguarda l'aspetto economico, noi abbiamo fatto veramente le pulci anche a questi aspetti, tanto è vero che ci sono circa 300 mila euro che il Comune di Battivaglia non ha riconosciuto al piano di zona per una mancanza di spese giustificative. Quindi abbiamo fatto le pulci alla spesa economica, abbiamo adottato tutte le procedure per poterne venire fuori da questo piano di zona e farne uno noi, così come dice il decreto regionale e poi a chi in qualche modo abbiamo... Si riferisce al consigliere Mira in serie di consiglio che ha sollevato dubbi? E' una risposta anche al consigliere Mira, ma non solo perché tante persone, noi non è che abbiamo perso noi come amministrazione il Comune capofila del piano di zona, noi abbiamo trovato come tante altre situazioni questa. Ovviamente io non sono abito ad lamentarmi ma a lavorare e credo che in un anno e mezzo voglio dire, tante cose sono state fatte anche sul piano di zona. Noi abbiamo, sono nelle delibere delle riunioni del piano di zona, ci sono una serie di affermazioni del Comune di Battivaglia fatte, messe a verbale. Siamo l'unico Comune che oggi ha dato 15 ore di specialistica scolastica su 12 comuni agli alunni della scuola dell'obbligo. Abbiamo chiesto il voto ponderato e ci è stato bocciato, ci siamo posti a rinnovi contrattuali per il trasporto perché volevamo che queste risorse fossero impiegate per l'assistenza domiciliare agli anziani. Noi stiamo facendo una battaglia all'interno di questo piano che non è mai stata fatta fino ad ora. E' chiaro che se la Regione non ci dà l'ok, noi siamo costretti a farne uno nuovo, noi siamo costretti a soccombere anche perché siamo 11 contro 1 di fatto, perché anche il voto ponderato da me è richiesto, quindi il voto sulla base della popolazione che compone il piano di zona è stato bocciato.